Papa Francesco ha ricevuto i Vescovi e i Sacerdoti della Sicilia in Vaticano e ha lanciato un messaggio semplice e forte allo stesso tempo, toccando temi di scottante attualità. Un pensiero Papa Bergoglio lo ha dedicato ai tanti, troppi giovani siciliani costretti a lasciare la loro terra in mancanza di opportunità di lavoro e di vita, sottolineando la sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini e anche la disfunzione dei servizi che scoraggia chi vorrebbe impegnarsi per cambiare le cose. Bergoglio, Papa molto attento a quello che succede in casa propria, non ha mancato di bacchettare anche i propri rappresentanti, raccomandando a Vescovi e Sacerdoti di stare attenti al carrierismo, definito una strada sbagliata che alla fine ti delude e ti lascia solo e perduto.